Andando a fare la degustazione di... Come si dice? Wagyu, Wagyu Carne, carne di bacca Wagyu Come si dice? Wagyu A vostro posto Ecco, questo posto è pieno di... Faccio il giro qui Adesso dobbiamo fare la degustazione Ciao, ciao a tutti Il Wagyu praticamente è una carne molto amarezzata Provida E compresa E sono assaggiato La tataki di Wagyu E io dovrò farci una ricetta E se avete delle idee Speditemelo E io dovrò farci